Il 17 maggio 2024, alle 20.30, al Teatro Petruzzelli di Bari, Umberto Galimberti presenta, L'etica del viandante, uno spettacolo basato sul suo omonimo libro di successo. Il filosofo esplora lo sviluppo evolutivo dell'umanità, analizzando politica, etica e relazioni con gli altri e il pianeta. La vendita dei biglietti inizia il 27 novembre 2023. 3. Galimberti critica l'attuale era tecnologica, affermando che l'etica tradizionale è impotente di fronte al dominio della tecnica. Propone un'etica del viandante, che cammina senza una meta specifica, abbracciando l'assenza di uno scopo. Questa etica si oppone al dominio antropologico della Terra, affermando che l'umanesimo del dominio è senza futuro. Segui audiofoglia.it. It su tutti i social. Alla prossima!